Volete sapere perché ho una penna conficcata nell'occhio? Beh, guardate tutto il video Che Dio amore quanto sei bello, sei felice, sei mio, mio, mio Permesso? Che stai facendo? Non sto facendo niente, sto vedendo un video dove c'è FabiJ, quindi vai via Un video musicale con Moira Orfei? No Moira Orfei! FabiJ, FabiJ! Ah, ok, l'ho visto prima, tu sei Non ho capito, cosa sono io? Ah, niente, è la canzone che si chiama Tu Sei Cos'è che dice la canzone di me? Dillo! Non mi arrabbio, lo sai No, no, non ti arrabbiare, allora, la canzone dice, dice, dice che tu sei bellissima E però adesso chiudo il portatile, non guardare alla fine perché tanto, tanto, tanto fa schifo alla fine Non è neanche da guardare, quindi chiudo il portatile No, ancora che parli, tanto si lasciano alla fine perché lei è bruttissima Vabbè, tu, tu non guardarlo Kevin pensa, allora, se lei guarda il video fino alla fine, poi scleramale e sarà la mia di fine Quindi cosa posso fare? Pensa, pensa, Kevin, pensa, pensa La corrente, la corrente Minchia, è vera che ho un portatile quello, cosa faccio, cosa faccio, cosa faccio Ma che cavolo fai? Rinevi i conclui dati, vedi? Sai cosa succede quando mi arrabbio? Allora, sorrillina, non sta succedendo niente E' solo che voglio mandarti la canzone in un link dove si sente molto molto meglio E non come questo schifo Quindi tu non guardare questo perché sto ragionando al mondo che io ora Ti mando il link Il link buono, ok? Ok Ok allora, devo tagliare quella scena come faccio perché poi devo caricare il video, eh E che vantaggio, vantaggio Non lo fai, ma c'era, non lo fai, non te ne pregierai, giro, no E tchau Sara, io non sono a te E' vero, sei solo bugiardo perché tu stai facendo Giulia Penna, ti ho visto Sara, che succede? Succede che una si sta facendo Fabi Ciao Sara e bravi ragazzi, come ho detto nella canzone, io amo solo te Oddio, amore, ma quanto sei? Aspetta, tu, tu non sei Fabi J? Beccati sta Giulia Penna Eeeh Eeeh, gli occhio Tu mi fai vedere un mondo che non c'è